Noi così come ci fa tornare indietro a un periodo buio della nostra storia che viene spesso evocato proprio in questi giorni purtroppo stiamo parlando dell'ascesa di Mussolini, è in scena, io l'ho visto, ne sono uscita devastata, è una parola brutta perché sembra che poi uno non... è talmente meraviglioso, è talmente avvolgente, è talmente scritto e recitato bene che veramente entri in un tunnel emozionale che ti fa tornare indietro nel tempo, insieme ti fa capire tante cose su quello che siamo noi ora, guerra o non guerra, è M di Scurati, vediamo questa clip e poi con noi Massimo Popolizio Alla fine si torna all'inizio, nessuno voleva addossarsi la croce del potere Bene, la prendo io Uomo di pensiero, scrittore efficace, oratore persuasivo, potrebbe diventare... un condottiero Eh? Il malcontento cresce bene, il caos è totale benissimo Non è soltanto caos, la rivoluzione è tutt'altra cosa La rivoluzione non la faranno i comunisti I fascisti sono un antipartito, fanno dell'antipolitica Bisogna marciare! Fino a qui è stato tutto teatro Ladies and gentlemen, Massimo Popolizio Il Foxtrot di quell'epoca ben trovato, grazie perché mi hai fatto passare... quanto dura lo spettacolo? Lo spettacolo va bene No ma quanto dura? So che è tutto esaurito e ora posto in piedi Dura fino al 3 aprile E quanto tempo stai in teatro? Quanto è lungo? È lungo, tre ore compreso l'intervallo Tre ore? Sì, ma non sembra Assolutamente, cioè tu esci da lì che dici Oddio voglio sapere ancora cosa succede Anche se la storia dell'ascesa al potere di Mussolini la conosciamo benissimo Ahimè, tutti Direi che è una sorta di apologo cupo sulla dittatura È un'allegoria anche del potere Sul potere in generale, non solo sul fascismo Sul fascismo e anche sulla possibilità, ahimè, come vediamo Di tanti fascismi, no? Della nascita, la possibilità della nascita di un fascismo Cioè della capacità di un uomo di essere mercuriale Cioè cambiare, essere un grande bugiardo Promettere delle cose invece non sono quelle La capacità di parlare in modo diverso A secondo delle persone a cui ti rivolgi Il popolo, le persone più importanti C'è il programma, cioè il programma cos'è? Un pezzo di carta Fascismo è un antipartito Sì, però poi quando va al governo c'è bisogno di un partito No? È questa specie di grande capacità di metamorfica Esatto Per altrimenti è che siete in due a interpretare Mussolini E appunto Popolizio, che lo ha scritto E Tommaso Ragno È stato complicato Quanto ci hai messo? Perché M, il figlio del secolo, il libro di Scurati Premio Strega È un tomo di 900 pagine Sì, 800 Sì, ci ho messo a nove mesi Sì, ma Lorenzo Paolini mi ha dato una mano Dal punto di vista storico Se non facevo castronate Ma non ho cambiato una parola del libro Il libro è esattamente quello Solo che è smembrato Cioè, certe parti sono Insomma, è stato smontato e rimontato Per 130 pagine di copione Che cosa hai capito di Mussolini Che prima non capivi? Che non sapevi o comunque non... Come fa un uomo Un movimento di 900 Che aveva pochissime centinaia di persone Di adepti A diventare il padrone dell'Italia Attraverso cosa? Attraverso una grande... Come dicevo prima Dicevo prima Una intelligenza Il cambiare continuamente Non essere mai individuabile Stiamo parlando al 19-25 Certo, l'ascesa al potere proprio Esatto Stiamo parlando soprattutto di quel momento Prima della marcia sul Roma Momicidio Matteotti Avrei potuto trasformare Quest'aula in un bivacco Per i miei manipoli Eccetera, eccetera Lo vediamo La clip Mussolini Eccetera, eccetera 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 No, nel frattempo Sta parlando Putin Nell'ambito di un consiglio dei ministri Che forse possiamo Della quale possiamo anche vedere le immagini Tanto per Perché poi tutto si tiene Ahimè Paragoni con Hitler In questi giorni con Putin Siano stati tanti L'invasione dell'Austria L'Anschluss Come l'invasione dell'Ucraina Le immagini Eccolo qui Comunque diciamo Le agenzie che stanno uscendo Ma abbiamo anche tradotte Con un interprete che abbiamo qui Putin ha fatto riferimento Alla crescita dei prezzi Adesso cosa sta dicendo? Sta parlando proprio lui Possiamo sentirlo? Possiamo sentirlo tradotto? Abbiamo anche delle buone possibilità Per le esportazioni Per quanto riguarda il complesso industriale Agri e agricolo Sarà difficile risolvere le questioni Anche per quanto riguarda le forniture Delle alimentari Ai nostri cittadini E di questo torneremo più tardi Ecco Perché sta parlando Sicuramente abbiamo capito Di economia Tant'è che dice Crescita dei prezzi di energia Non è colpa della Russia Ma dell'Occidente Probabilmente Sta parlando al suo popolo Che sta chiedendo conto Di quello che sta avvenendo Sia sul fronte dei morti Perché sappiamo che Lo dico con rammarico Perché quando ci sono vite umane Che cadono La pietà umana è universale Ovviamente E quindi probabilmente Sta spiegando La nazione Attraverso questa forma di videoconferenza Qualcosa sull'economia E sulla situazione Poi dopo vi aggiorneremo Allora Mi stavi dicendo Come ha fatto lui E come ha fatto? Cambiando continuamente Beh sfruttando Mi sembra che adesso Ne hai Un altro Cioè Sfruttando le cose A proprio favore Sai È fantastico L'ultimo discorso Il 3 gennaio Del 1925 Alla Camera Quando dopo il delitto Matteotti Si aspettano tutti Che i socialisti Facciano una grande mossa I socialisti Non la fanno E lui al colpo di genio Dice Se nessuno mi incolpa Io mi discolpo Si inventa un'accusa E dice Se io sono così La colpa è mia Se il fascismo È stato Soltanto manganello E olio di ricino Sono stato io Sono stato io Il fautore di questo Il fascino ancora attuale Che riversa Su frange estreme Mussolini Come te lo spieghi? Dopo tutto quello Abbiamo passato Leggi razziali Guerra Miseria Ma non solo Sulle frange estreme Cioè Chiunque scrive Di Mussolini Ha una specie Una specie di calamita Poi in realtà Molti scrittori Contemporanei Scrivono forse Una volta all'anno Un libro su Mussolini E qualsiasi libro Su Mussolini Ha comunque una vendita Non per niente Il fascismo È nato in Italia Cioè Ti ripeto Un'altra battuta Dice forse Quando dico Il fascismo Dilaga come un virus Sulla via Emilia Ma il virus Dice forse Il fascismo Forse non è Il virus Che dilaga Ma è il corpo Che lo accoglie Chi lo sa Forse una Una parte Del nostro DNA È portata E io Tra l'altro Spettacolo Accendevo il telefono Per prendere appunti Però era in modalità aerea Quindi non poteva suonare E mi ero Ci sono insegnata Queste due frasi Quando il popolo Si è imparato A dire che sei bravo Anche se non dici nulla Sei bravo Questo è un piccolo L'unico piccolo tassello Ho inventato Che è quello di Petrolini Che è diciamo È la battuta di Nerone Nerone Fatto da Petrolini E poi dice Ah Bravo 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 Poi non fa nulla Anche se non dici più niente Sei sempre bravo L'abbiamo messo Nel momento in cui Il grande Paraculo Mussolini Vestito con una tuta Invece che di Abiti normali Una tuta da aviatore Macchiata di grasso Fa impazzire I fascisti in sala Perché Diventa Diciamo Popolare Cioè si mette Quella tuta Macchiata di grasso Che è uno strumento Quello di indossare Indumenti Che è una cosa Della politica Anche attuale Ha utilizzato Cioè era molto contemporaneo Dal punto di vista Della propaganda Molto astuto Ha inventato la propaganda La radio E poi questo Anche la violenza È il male Il rimedio Dipende dalle dosi Però vorrei che mi parlassi Come ultima cosa Di Margherita Sarfatti Perché non tutti sanno Si ricordano Che la donna Che più di tutte Contribuì Alla formazione Di questo ragazzo Ambizioso Sicuramente intelligente Volitivo Ma insomma Un po' rozzo Perché non era così preparato Eccetera Faceva giornalista Eccetera Fu Questa Margherita Sarfatti Ebrea Espressione del migliore milieu Intellettuale dell'epoca Costretta poi ovviamente In seguito alle leggi razziali A scappare Ma fu lei proprio Che anche lo finanziò Per il giornale Perché questa donna Così intelligente Insomma Nel testo teatrale Voi fate intendere Che era una roba Amorosa Per la quale Lei studiava Anche lui era più giovane di lei All'epoca Essere più giovane Del proprio uomo Era Lei l'ha plasmato L'ha Imparando Cioè Insegnandogli I congiuntivi Gli voglia di dire I libri Che deve studiare Però ci sono Delle lettere Pazzesche di sesso Tu sei il mio lupo Vorrei bere il tuo sangue Vorrei essere con te Nel letto Cioè ci sono delle lettere Molto hard Bellissime Dal punto di vista No Passionale Molto Molto vere La Sarfatti Non Non che la Vera Sarfatti Fosse brutta Ma Voglio dire La nostra Sandra Toffolatti È una bellissima donna E anche che si muove In modo Ballano 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 Foxtrot Perché tutti noi Non siamo Non Non aderiamo Alla Immagine vera Storica Certo E in questo senso È uno dei rapporti La Sarfatti Che Mussolini Ha con le donne In scena ce ne sono tre Nel libro Ce ne sono tantissime Ne abbiamo scelte tre E con queste tre donne Lui ha tre rapporti Completamente diversi Quello che la Sarfatti È veramente Di soggezione È l'uomo Plasmato Da questa donna Intellettuale E secondo me Forse anche Lei Adesso Vedendo Mi ero voglia Passo a approfondire Quando vedo Le cose così belle Quindi Sarei Però Tra il tempo C'è poco Però Sarei Leggerei qualunque cosa Secondo me C'era anche L'idea Di un femminile Che aveva in mano Qualcuno Che avrebbe raggiunto Il potere C'è un elemento di potere Anche lì Non soltanto Non solo Ma poi viene fregata Perché una volta Raggiunto il potere Ha visto scenicamente Ricordo Certo Mussolini Gira le spalle E poi va via E quindi lei ha questo Grandissimo monologo Bellissimo In cui dice Io ho dato gli anni migliori Della mia vita Ti ho aspettato Nell'albergo Dell'hotel continentale Mi sono degradata Passando dalla scala Della servitù Per raggiungerti Nella tua camera Quando tu volevi Avermi No Questa donna Intellettuale Che si è degradata Non ha più L'uomo Cioè Quell'uomo Gli volta le spalle Ed è Con questa grande platea Diciamo vuota Con una grande diapositiva Dietro Un'immagine così forte È un grande pezzo Che Sandra fa benissimo Un grande pezzo teatrale Ragazzi Una cosa meravigliosa Ve lo dico proprio Il romanesco Tanto non hanno bisogno Perché è tutto strapieno Ho fatto il post su Instagram Ho fatto pure il post su Instagram L'ho già divulgato Sono felice D'averti avuto ospite Massimo Popolizio Vedetelo Recuperate il testo Ma lo pubblicate il testo No Perché comunque è Il testo è sempre di Antonio È sempre sotto Leggine di Antonio Mi piacerebbe di averlo Così Una sorta di Io ti ringrazio Personalmente perché sei Una delle donne Della televisione italiana Che va a teatro E questa è una cosa Da mettere Ci mancherebbe No ci mancherebbe Non è scontato Va bene Siamo felici di poterlo divulgare Peraltro si chiude Con i titoli di coda Gli applausi finali Su Battiato Su Petro Stoarm E quindi Grazie Grazie a te Grazie a te Grazie a te